Per noi è una condizione irrinunciabile e fondamentale. Non lascia intravedere a cui spazio di trattativa sul numero di agenti della polizia locale che verranno dotati di pistola il vice sindaco e assessore alla sicurezza Paolo Polidori. Numero che non dovrà essere inferiore alle 100 unità. Anzi, l'esponente della Lega fa chiaramente intendere che sul punto il suo partito è pronto ad andare alla rottura con tutte le conseguenze politiche che in ultima istanza potrebbero addirittura compromettere il futuro dell'amministrazione guidata da Roberto Di Piazza. Con meno di 100 persone si avrebbe difficoltà a fare il servizio notturno, si avrebbe difficoltà per quanto riguarda i turni. Non vedo perché avendo meno persone a disposizione queste persone dovrebbero fare più turni per poter coprire il servizio per cui il limite minimo e imbalicabile è di 100 persone, sui quali ovviamente non si potrà transigere. È una questione in cui ci crediamo, anche perché con le funzioni sempre più complesse della polizia locale negli ultimi anni è necessario che anche e soprattutto per loro difesa siano dotate di un'arma che potenzialmente li difende da potenziali pericoli. Quindi la questione è, una delle più importanti, è il presidio notturno del territorio perché tra le varie cose noi abbiamo per legge la non possibilità di poter presidiare il territorio e cito di poter essere in strada dalle 2 di notte alle 6 di mattina, cosa che con l'armamento sarebbe possibile. Per quello io addirittura avrei cambiato la denominazione, non d'armamento perché l'arma non è il fine, è il mezzo. Il fine è l'obiettivo, è il presidio del territorio, oltre che ovviamente la salvaguardia della sicurezza e dell'incoluminità della gente che va in strada.